Carl Drogo sbarca in Sicilia Ebbene sì signore mio Quel rappresentante della razza maschile È pronto a portare il suo metro e novantatré Sulle spiagge di Erice Perché? E soprattutto perché lo sappiamo noi? Perché il protagonista di Aquaman La troupe e compagnia cantante Gireranno alcune scene del film in Sicilia Precisamente ad Erice Teatro di grandi set ultimamente Dopo il film di Piff In guerra per amore L'attesissimo Wonder Woman Con la bellissima cavalcata delle amazzoni Che già si vede dal trailer Ecco un'altra grande produzione Che sceglie le coste della nostra penisola Per girare gli esterni Le riprese del film inizieranno nel gennaio del 2017 Ai Village Roadshow Studios In Australia Per poi spostarsi in Sicilia a settembre 2017 Perché ricordiamo che la pellicola uscirà il 5 ottobre 2018 Sia in 3D che in IMAX Il regista James Wan Famoso per Insidious e Fast and Furious 7 Ha dichiarato che tipo di film ha intenzione di realizzare E qui, cito Senza svelare troppo Lo tratterò come un film di avventura classico Sarà un'epopea ambientata nelle profondità oceaniche Beh, Aquaman Sarà una vera e propria caccia al tesoro Una via di mezzo tra i predatori dell'arca perduta E all'inseguimento della pietra verde I film scelti dal regista per parlarci del futuro Aquaman Mi portano in un vero e proprio brodo di giucciole Quelle belle commedie anni 80 Colme di comicità intelligente e scene clou Ne avremo un piccolissimo assaggio quando prossimamente vedremo Amber Heard e Jason Momoa in Justice League Che a proposito, a breve, dovremo vedere anche il trailer Nel cast ricordiamoci anche il meraviglioso Will and the Four Non so perché, ma prevedo un'impennata di prenotazioni Per le vacanze marittime Proprio ad Erice nel settembre 2017 Chissà Forse sono proprio una veggente di questa estate che ci aspetta Ma... E voi cosa ne pensate di questo Aquaman? Vi piace Jason Momoa? Cliccate su questo boxino qui E ricordatevi di seguire sempre Screen Week Per essere aggiornati sul mondo del cinema Noi ci vediamo al prossimo frame Ciao!